Abbiamo anche un minore che è entrato in pediatria, ha fatto il tampone, che adesso è da noi, ma comunque la situazione è sotto controllo, non ci sono problemi, nel senso che la febbricola è normale, però non abbiamo assolutamente episodi dove serva mettere in subintensivo o in intensivo. Conferma, ma allo stesso tempo rassicura il direttore generale Benazzi sulle condizioni di un bambino di 8 anni ricoverato al cafoncello e risultato positivo al covid. Qui è arrivato accompagnato dai genitori insospettiti da una febbre fuori stagione. Anche loro sono stati sottoposti a tampone e già nelle prossime ore si conoscerà l'esito. Nel momento in cui loro siano positivi potrebbero essere anche uno dei genitori messo col bambino all'interno della stanza singola. Intanto la direzione medica dell'ospedale di Conegliano conferma la positività di una futura mamma giunta la quattordicesima settimana. Ricoverata per il persistere di nausea e vomito è stata sottoposta anche a tampone come ormai da prassi, da cui lo screening sui contatti della donna e su tutto il reparto di ostetricia, ginecologia. I primi 19 test rapidi sugli operatori hanno evidenziato 18 negativi e un positivo in attesa di conferma con la direzione che richiama comunque alla calma. Tutti negativi invece i tamponi effettuati all'Electrolux tra i colleghi dell'uomo risultato positivo nella giornata di mercoledì. Una decina di contatti in tutto che vanno a sommarsi ai venti della prima donna positiva in fabbrica, contato a sua volta di un caso della Trevali di Vazzola. In tutto 30 operai con ricadute anche sulla produzione. Questa assenza di operai di linea complessivamente porta a un relentamento produttivo per le linee interessate, che non produce effetti particolarmente gravi. Però in una fase in cui l'azienda fa di tutto per recuperare pezzi produttivi, incide in negativo sull'andamento. Grazie a tutti. Grazie a tutti.